Vi prego, se li incontrate, non siate cattivi con lui. Si è perduto nel mondo e non sa più cosa fare, il ragazzo dai cappelli bianchi, lui cammina, cammina, cammina col suo carico immenso d'amore che non sa mai donare a nessuno, lui cammina e cammina e non sa più dove andare, non sa più dove andare. Col suo carico immenso d'amore che non sa mai donare a nessuno, lui cammina e cammina e che non sa più dove va, non so più dove va. A Berlino o a Parigi io mi specchio tra la gente, le vetrine, le ferite, lui cammina, io cammina e cammina, io cammino col mio carico immenso d'amore che non sa mai donare a nessuno, lui cammina e cammina col mio carico immenso d'amore che non sa mai donare a nessuno, lui cammina, io cammino e non so più dove andare, io non so più dove andare, io non so più. Amore Il ragazzo dai capelli bianchi, lui non sa più dove andare. Perciò vi prego, se mi incontrate, voi non siate cattive. Non siate cattive. Non è diventata qualcos'altro, fino al 2008 credo, dove è diventato purtroppo un supermercato. Ma questa è un'altra storia.